Everybody f*** it, lose it! E voglio provare, come stanno facendo alcuni youtuber adesso e come va molto di moda nelle community di youtube inglesi o americane, appunto a portarvi Ultimate Team, perché alcuni ce l'hanno chiesto. Voglio portare a provarvi appunto questo Ultimate Team per cercare di ampliare insieme questa rosa di merda che mi hanno dato ora, ma chi cazzo è NECID? Cioè, vabbè, una cosa assurda, però mi hanno dato Albertazzi dell'Ellas, ragazzi, ho fatto pure la rima, mi hanno dato anche Marzorati del Sassuolo, mi hanno dato anche del Grosso dell'Atalanta, che cazzo di squadra di merda! Ronny, no, tu sei titolare, tu sei titolare e non ho un posto per te, ok, facciamo finta che non ho detto niente. Allora, abbiamo un pacchetto, un pacchetto premio di bronzo, vai, apriamolo, oh! Oh! Aia, mi fa male il dito, oh! Oh! Si è in palla, oh! Oh! Ok, vedi che bestia, madonna, madonna, mamma mia che bestia, oh madonna mia, che roba ragazzi, pigliacelli, questo piglia uccelli da tutte le parti. Quindi, vabbè, giochiamo così, allora, vai, ricerca dell'avversario in corso, ovviamente ci metterà gli anni per cercare un avversario, quindi potete farvi una dormita, una sigaretta o qualsiasi cosa voi volete farvi. Trovato, meno male, subito, vai, che maglia di merda ho? No, no, vai, metti tu quella nera, grandissimo, ho la maglia del Lecce, che magari non è quella del Lecce, però è identica. E partiamo con la prima partita, all start, vai. Pure questo c'ha una formazione di merda, però almeno a lui hanno dato i mobili e poli, cioè, qualcosa di meglio rispetto a me. Vai, partiti, subito, bam, ancora, quanto sono lenti, incredibile, Lucas, la palla per me, nan, Lucas, tu sei la mia bomber, bastola. Oh, da, ma perché? Dio, no, no, guarda te, guarda che cazzo stanno facendo, una cosa assurda. Ma vuoi spazzare sto pallone, cazzo? Ma porca puttana, pure il fuorigioco. Vai, il cross di nuovo per Nesid, Nesid, vuole fare tutto da solo, Nesid, lo manda Nesid, Nesid, la palla per Lucas, il mio bomber, Lucas, Lucas. Ma porca puttana. Ancora, subito per Nesid, Nesid, lo scatto di Nesid, impressionante Nesid, 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 mamma mia. Venite qua, venite, mamma mia, 25 minuti di minuto Nesid, ragazzi, 1-0 per Zenic, non so neanche che non ne abbia la mia squadra, sinceramente, perché non l'ho modificato. Resistenza FC, ma che cazzo, basta, Resistenza FC for life, le sabato la passa a Marzorati, lui, dai mamma mia, mamma mia, mamma mia il veleno, mamma mia, mi fai salire il veleno immobile di merda. Oh, bastola, oh, Nesid, 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 carica a destra, Nesid, mamma mia, mamma mia, che cazzo avevo fatto, mi si è tolto il cappuccio sti cazzi. Lucas, di nuovo, Guangio, valla per l'abadi, ma come fuori gioco, ah no, no, è finito il primo tempo. Impressioni a caldo? Niente, tranne il bellissimo qual di Nesid, dai, possiamo andare avanti. Oggi sono dislessico, era inutile che io facessi il gameplay? Oh, 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 no, merda, ok, mamma mia, del grosso, bellissimo, ok, mettete un mi piace per questo rinvio di merda. Oh, del grosso, del grosso, fa tutto lui, del grosso, del grosso, va avanti, del grosso, del grosso, lo manda all'abdie, l'abadie, come cazzo si chiama, il grosso in mezzo, in mezzo, porca troia, ma stola, tira cazzo, ma porca, Lucas, tira. Dio, sto urlando come le merde, mette in pausa, per quale motivo non si sa. Poli, Poli la palla per Croiser, Croiser, ancora Stefanutto, Stefanutto che cazzo fai, madonna, i dribbling di merda che fa quest'uomo, no, 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 ok. Quangio, Quangio in mezzo a otto non poteva passare, perché metti in pausa? Cazzo, madonna mia, 28.000 secondi di pausa. Eeeh, del grosso, ancora del grosso, è lui il bomber di questa squadra, del grosso, del grosso, del grosso, del grosso, no, 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 ancora la palla per del grosso, del grosso, ci arriva, del grosso, no. Nesid, il passaggio filtrante per Menhan, Menhan, ancora la palla per Nesid, Nesid, il grosso filtrante ad alto per Croangio, Quangio il tiro, ma che cazzo di tiro era? Non si sa quante stronzate ha fatto, dai, è qua, finisce la partita, finisce la prima partita, e io direi, anche se verrà un video molto corto, perché ci saranno stati molti tagli, direi che per questo primo episodio, appunto per testare l'affluenza che avete con... Che cazzo sto dicendo? Vabbè, mettete mi piace a questo primo episodio, e mettete mi piace per il cappello dello Bey, l'ho comprato, l'ho pagato pochissimo, è bellissimo, non sto sponsorizzando le Bey, non sono un money grabber, non vi preoccupate, mettete mi piace per Nesid e per del grosso che è una bestia, eeeh, condividete se volete, mettetelo nei preferiti, cazzo c'è un mal di gola, eeeh, dai Graonas, da Xenic è tutto, da Angard è tutto, non so perché l'ho detto, è stato un piacere. Bella!